Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su D'Aviria Heroes of Eternity Un gioco che mi ricorda molto, come al solito lo dico e lo ridico su molti giochi Un Souls, un Souls-like Ma a differenza di Soltan Sanctuary che abbiamo visto qualche mese fa Che era completamente bidimensionale, per intenderci alla Super Mario Ecco, detta molto a parole grosse E questo è a volo d'uccello, in pratica completamente visto dall'alto Lo andiamo a vedere perché è molto carino E' uscito il 10 di marzo Qua abbiamo proprio l'inizio in cui il gioco ci va a insegnare le sue meccaniche base Sto usando la tastiera del mouse anche se in realtà il gioco consiglia fortemente l'uso di un pad Comunque ci proviamo lo stesso Allora, prima ancora che il gioco ci spieghi come funziona Ve lo dico io In pratica c'è questa grafica, Stealer Shader In cui, vabbè, qua settiamo il nostro punto di respawn Con lo spazio rotoliamo Col tasto destro del mouse ci ripariamo E... Qua, in questo caso, distruggiamo la porta e andiamo oltre Qua compare una... Allora, prima sistemiamo questo Dobbiamo fare attenzione Ok Col tasto, quando compare questa manina Col tasto del mouse possiamo interagire Ma in questo caso non c'è nulla Allora Qua abbiamo la... col tasto I L'inventario In cui possiamo andare a vedere le armi che possediamo La nostra vita, la nostra endurance E gli danno che facciamo L'armatura E il livello Perché più uccidiamo mostri Più saliamo di livello Demoliamo anche questa porta e andiamo avanti Tasto I per curarci Ma in realtà Non abbiamo danni Anzi, abbiamo buttato via una... Pietra Come vedete qua sotto Una pietra di cura Ecco, qui Ero un po' indeciso se definirlo un Souls-like Ma quando ho visto questo... Questa scena qui Insomma, me lo ricorda ancora di più Qualcuno che rompe le balle dall'alto Con un arco non può che essere Ispirato a Dark Souls Saltiamo giù Apriamo questo forziere Una... Vediamo un po' Che cos'è che abbiamo preso Questa Allora Può essere usata per combattere la pietrificazione Non lo possiamo usare? Sì E' una spada a una mano Ma mi chiedo solo l'arco Dove... E' l'arco Lo scudo Dove sia finito? Qua Ok Equipaggiamo anche quello Ma non possiamo Perché ci chiede due mani Weapon Speed Eh, fa più danno Pesa Eh, sì Lo useremo senza Qua abbiamo armature Che già stiamo equipaggiando Ma scusami Se io lo metto qui Eh no Ho una o l'altra Vabbè, continuiamo con questa Dai Proviamo così Vediamo Vediamo come va Il carnetto si può distruggere? Assolutamente sì Dicevo grafica in shader Che è simpatica Non abbiamo la possibilità di Eh merda Abbiamo finito Il Anche qui Uh Abbiamo finito il fiato Eh Perdoni eh Posso No, non volevo curarmi Vabbè Vabbè A parte che Vabbè Io sono morto anche nel tutorial Quindi Vado un po' Aia Ed è quello che succederà Tra poco Infatti Adesso continuiamo con lo scudo Eh, vorrei riuscire almeno a finire Questa parte qua Perché Io soffro molto in questi giochi Niente Eh, facciamo una roba Riprenditi La spada E mettiti anche lo scudo Va Va, buone Torniamo in là Di nuovo La trafila Contro tutti i nemici Fortunatamente però abbiamo recuperato le stone La porta però è già distrutta Stavolta Demoliamo anche qui No, non troviamo nulla Andiamo avanti Dai andiamo Facciamo una run Proprio Di corsa Scudo Vediamo come funziona Però Una volta che noi pariamo con lo scudo Aia Pariamo con lo scudo Però restiamo totalmente senza fiato Ok Mori Bastardo Allora 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 Adesso dovrebbe esserci Il primo Che è Piuttosto Fattibile Uno Allora il pattern è Uno Due Quindi noi Quindi noi interveniamo E lo stendiamo Cura veloce Questo è già un po' Piuttosto Perché già ci Assomi Aia E no Dobbiamo spostarci Perché C'è quello lì Che ci spara Con le fecce Dobbiamo darci una mossa E Atenerci soprattutto In movimento Ma no Ma no Ma no Ma no Ritentiamo di nuovo Run veloce La parte Bella Che comunque L'attacco dei nemici È scandito Comunque Dal movimento Cioè se L'arciere Ci sta per colpire Ovviamente Incocca la freccia Quindi riusciamo Anche a orientarci In base a quello Questo Uno Facciamo fare Il doppio attacco Uno No Non fai il doppio attacco Ok E adesso Ti sderumo io Bene Adesso bisogna andare decisi Pronti con la cura Dobbiamo far ricaricare bene La La stamina Ma forse Ce li evitiamo Quello non ci ha visto Ok Non ci ha visto Non ci ha visto Perfetto Fantastico Demoliamo la porta Candele Candele Provermente anche voi Come me avete pensato È oro No Sono candele Albert Vediamo un po' Fa danno 22 22 Si può prendere una mano Si Si può prendere una mano? Pomma Eh però Diamo forse tre colpi Prima di finire la stamina Va buono Va buono Andiamo avanti Cerchiamo un santuario Dove salvare Perché Eh No Ho bisogno Era qui il santuario Ok Adesso Iniziamo a ragionare Ok Allora Avanti Marano No No Perdoni Cura Ancora un colpo Uno ancora Oh Dobbiamo curarci E non abbiamo più cure Eh vabbè Peccato Siamo quasi morti Non ci sarà mica Una trappola O qualcosa No C'è solo un Un imbecille Addio Oddio Oddio Vabbè Ripartiamo da là Con Tre pietre di cura Quindi può anche aver senso Morire Volutamente E Allora Tu Che arrivi direttamente Da Nightmare Non avrai Scampo E Adesso arriva anche L'altro Da dietro Scusate Adesso io vi lascio No 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 Poi so che qualcuno di voi Mi 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 In seguito a morti E Diciamo che sta funzionando La cosa Con questo gioco La No Ma è carino Devo dire Che è ben fatto Ha una buona fisica E E Un gioco Come dice anche Il La descrizione Su Steam Basato su Sull'abilità Del giocatore Vosso col pad Rende meglio Oddio Sembrava morto E invece mi uccide lui Vabbè Siamo ancora Siamo ancora nella fase iniziale Quindi non abbiamo perdita Di Di esperienza Ma Scusate Ma Qua Vabbè No All'alternals Ma è quella C'è una prova Rimettiamo questa Che magari Facciamo meno danno Ma siamo più Più agili No C'è anche quello dietro Scusa 1 2 E adesso Tocca a me però Aia Togli a metà della vita 1 2 1 2 3 Maledetto Adesso avanti un'altra Tocca a te Vieni avanti Dove sei nascosto Ti faccio l'imboscata Eh no Ma sentito da dietro l'angolo Non so come l'abbia fatto Una Ciere Beh Cura Direi Non qua davanti Ok Ok Attendiamo che Passi Ok Sì E c'è ancora qualche Problemino Nel senso che lui mi ha visto attraverso la parete Ha sparato alla parete Però Vabbè Allora Via Questi mi sparano Dall'alto Sistemo Agilmente Il primo Ok Anche il secondo Continuiamo Senza perdere vita No Ok Sei lento a caricare le frecce Continuiamo Scendiamo di qua Un santuario Ci sarà mica uno sconto col boss Si vede niente Una leva Una porta Non è mai un buon segno No Siamo usciti dove eravamo prima Ah Eh Solo Slyke Cioè Non prendiamoci in giro Beh ma scusa Siamo usciti di là E adesso Di spalle Li prendiamo quelli No Eh Cosa pensi di fare Anche tu Dai Su Giovane Andiamo di là adesso La Pensi Ha parato Il maledetto Stronzo Vabbè Una leva Una leva Una leva Una leva Per il cancello Non riesco più a smettere Andiamo avanti Zitti Zitti Mi hanno visto tutti Mi hanno sentito Penso che lo stealth Non ci sia In questo gioco Ma Aia Eh Crepa Ok Allora Abbiamo tre pietre No Comunque non è frustrante Al momento Perché comunque si riparte Abbastanza Aia No Curati Maledetto Allora Ma 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 Porco Cane Ma Scusate Adesso io inizio a tirarli qua Uno per uno Perché Aia Ma Non è frustrante Perché non si ricammina Per due ore Ma Eh Bisogna Tenersi Concentrati Indubbiamente Allora Non potete colpirvi da soli Uno davanti Uno dietro Adesso vi spiano Tutti e due Maledetti Adesso iniziamo dall'alto Iniziamo ad andare a spianare Gli aceri Di me Merga Allora Iniziamo con questo Non andiamo in mezzo Non tiriamoci Grane Addosso Ci sono due armi Adesso lì Allora vediamo Uno Due E adesso tocca a me Ok Adesso Aia Mi rimetto in attesa Uno Due Ok No 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 Non voglio Level up Vitality Forza Aumento questi Ok Ecco non vi ho fatto vedere La possibilità di comunque viaggiare tra un santuario e l'altro Riposarsi È souls in pratica È lui Non ci riposiamo perché sappiamo tutti quello che potrebbe accadere Non ci ha visto Non ci ha visto Ma dove vai Pirla Allora C'è una leva ma prima c'è questo signore qui gentile da spianare Vieni vieni Fai il tuo pattern di attacco Uno Due E adesso tocca a me Ok Leva Beh ma siamo più forti Abbiamo più forza Più vitalità Ce la possiamo fare Uno Un pattern a solo Uno Molto bravo Ma sei veramente scarso Andiamo avanti Piano piano Buono buono E tutti addosso a me Tutti addosso a me Aia Ma siamo dove eravamo prima comunque No Assomiglia molto Siamo tornati Dove eravamo prima Ok Sì Siamo decisamente tornati dove eravamo prima Abbiamo sbloccato anche l'ala dall'altra parte Infatti siamo sempre qui Dobbiamo trovare nuove zone dove andare Abbiamo tirato la leva Siamo usciti di là Ed era la porta iniziale questa Niente E' misterioso Misterioso Alla Dark Souls Indubbiamente Perché comunque il gioco Non ci sta dicendo Assolutissimamente Nulla Di cosa fare Di dove andare Ma io penso Ad avervi fatto vedere Abbastanza Mi sono incazzato anche Abbastanza E' un gioco che comunque Dà le sue soddisfazioni Una volta che riuscite comunque Ad avere un buon equipaggiamento E una buona tattica d'attacco E soprattutto Una buona pazienza Questa è la D'Aviria Fatemi sapere che cosa ne pensate Spero di avervi portato Una buona Novità Diciamo Magari Anche un gioco da aggiungere Alla vostra lista Desideri Su Steam Fatemi sapere ragazzi E alla prossima Ciao ciao Qua tornato il boss Intanto ma io non vado via Ciao 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 ciao